Giro di simcard con false intestazioni utilizzate da esponenti della malavita intestate agnari cittadini scoperto dalla Guardia di Finanza che ha sequestrato quattro società romane, tutte operanti nel settore della telefonia mobile. Il provvedimento è il risultato di complesse indagini disposte dalla procura della Repubblica di Roma a direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore capo Giuseppe Pignatone e coordinate da Carlo La Speranza che hanno consentito di far luce su intestazioni fittizie di schede telefoniche risultate in uso anche ad esponenti della criminalità organizzata. In alcuni casi le schede erano intestate addirittura a nomi di fantasia e dunque a soggetti inesistenti.